Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questo webinar che organizza ANAC con Format PA dedicato al tema dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto 33. In particolare, questo webinar sarà dedicato a presentare le modalità di utilizzo dell'applicazione web che consente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Il webinar odierno fa seguito a un altro webinar sullo stesso tema che si è svolto lunedì 26 giugno e il webinar di lunedì scorso era rivolto agli OIV, cioè agli organismi indipendenti di valutazione. Quello odierno invece è rivolto ai previsori dei conti che sono incaricati di rendere l'attestazione per gli istituti scolastici. Io vi do il benvenuto, prendo qualche minuto iniziale prima di dare la parola ai relatori del webinar odierno per ricordarvi alcune cose. La prima è che avete a disposizione una chat, uno strumento domande e risposte. Vi chiediamo di utilizzare la chat come state facendo per mettere i messaggi di benvenuto, per segnalare eventuali problemi tecnici, difficoltà nell'ascoltare i relatori o comunque tematiche connesse al funzionamento del webinar. E di usare invece la chat domande e risposte per porre dei quesiti relativi ai temi oggetto degli interventi dei relatori del webinar. Ci sarà uno spazio, diciamo, nella seconda parte del webinar per rispondere ad alcune delle domande. Ovviamente non sarà possibile rispondere a tutte in diretta, però le domande verranno consegnate ad ANAC e quindi verranno formulate successivamente delle risposte e le domande verranno anche utilizzate per elaborare delle FAQ che poi verranno rese disponibili sul sito di ANAC. Quindi vi invitiamo a usare quello strumento nel caso abbiate proprio dei quesiti di tipo tecnico relativi ai temi oggetto degli interventi. Io vi ricordo anche che questo webinar è registrato. La registrazione verrà pubblicata sulla pagina di EventiPA, la stessa sulla quale vi siete registrati. Ovviamente questa soluzione consente anche alle persone che non abbiano potuto partecipare oggi perché la capienza prevista per questo webinar, come anche per quello di lunedì scorso, era di mille partecipanti, è stata ampiamente superata. Quindi sappiamo che molte persone, pur interessate, non hanno potuto iscriversi. Quindi sarà possibile già da questo pomeriggio avere accesso alla registrazione. Quindi coloro che fossero interessati ad approfondire successivamente o appunto a seguire gli interventi potranno farlo dalla registrazione che pubblica sulla pagina di EventiPA. Io do ancora qualche minuto prima di dare la parola alla dottoressa Del Balzo che farà l'intervento di apertura di questo webinar. Siamo a oltre 600 partecipanti in questo momento. Aspettiamo ancora qualche minuto. Vedo dai messaggi di benvenuto che tutti vedete e sentite correttamente. Non vedo segnalazioni di problemi di natura tecnica. Bene, buongiorno a tutti. Siamo lieti che siate così numerosi. Grazie per la conferma del fatto che si senta e si veda bene. Io vedo già collegata la dottoressa Del Balzo a cui lascio la parola per il primo intervento. Prego, dottoressa Del Balzo. Grazie, buongiorno. Intanto grazie a tutti voi, grazie all'organizzazione, grazie per averci messo a disposizione questa piattaforma che ci consente in questa sessione, così come in quella precedente, di essere a diretto contatto con tutti i componenti degli OIV che hanno un ruolo così strategico nell'ambito delle attività che andremo a illustrare, ma anche grazie soprattutto a quello che ci diceva c'è il fatto che l'attività di cui parliamo, questo video verrà registrato, questa sessione di lavoro verrà registrata e quindi questo consentirà a tutti gli altri che non si sono potuti registrare proprio per problemi di capienza di poterci riascoltare in un momento successivo. Abbiamo fortemente voluto come ANAC questi due momenti di incontro perché noi riteniamo che sia strategico il nostro momento di incontro e di relazione con i componenti degli organismi di valutazione ma anche con tutti coloro i membri degli organismi assimilati che svolgono funzioni analoghe. Nel caso di SPACE ovviamente parliamo delle attestazioni in merito alla correttezza delle pubblicazioni nelle pagine amministrazioni trasparente sostanzialmente, la trasparenza, questo non c'è ovviamente bisogno che lo dica a voi, è un fondamentale per il nostro sistema paese, è uno dei pilastri su cui si fonda non solo l'attività dell'autorità nazionale anticorruzione ma tutto il progetto del sistema paese, ovviamente a maggior ragione vale nell'epoca del PNRR, quindi lo sforzo che è richiesto a tutti i componenti degli organismi che ci stanno ascoltando, è uno sforzo sicuramente importante ma vorrei lanciare un messaggio chiaro, grazie a questo vostro impegno si possono raggiungere risultati in materia di trasparenza che altrimenti non si potrebbero raggiungere. proprio perché riteniamo cruciale questa attività, sapete l'ANAC nel corso del tempo in particolare negli ultimi due anni ha fatto un upgrade proprio dal punto di vista della digitalizzazione del percorso, dei processi che vi vedono coinvolti, già l'anno scorso avete compilato, avete utilizzato dei format predeterminati che ci hanno consentito anche una sistematizzazione dei dati che ci avete trasmesso quest'anno ha uno sforzo dei nostri uffici IT, siamo riusciti anche a creare questa piattaforma sulla quale voi potrete caricare i dati secondo delle modalità che vi verranno successivamente illustrate dai funzionari dei nostri uffici che ovviamente saranno sanzioni per supportarvi laddove avesse difficoltà anche tramite un contact sancato. è molto importante che voi acquisiate di mestichezza con questo nuovo tema di caricamento delle informazioni quella che andiamo a illustrare oggi è la prima sperimentazione, è il primo passo verso la definitiva piattaforma unica per la trasparenza. Un grande progetto che accompagna il percorso dell'ANAC nei prossimi mesi che speriamo vedrà il taglio del nastro a stretto giro però pensavamo che non si potesse iniziare che con il contributo di tutti quanti voi che avete un'attività estremamente qualificata, grandi competenze per procedere nella direzione appunto a sperimentare questo tipo di piattaforma. Ovviamente è importantissimo il tipo di attività, vi spiegheranno i colleghi poi perché quello che è richiesto ovviamente non è solo di verificare la compilazione diciamo così come merito formale della pagina amministrazione trasparente ma più rileva è l'attestazione della corrispondenza di quanto pubblicato nella pagina amministrazione trasparente a quanto effettivamente fatto dalle amministrazioni. Quindi voi siete per noi la cartina di tornasole, in qualche modo la garanzia è fatto che quello che nelle amministrazioni accade è poi quello che è riportato nel sito e quindi diventa leggibile. I vostri dati saranno patrimonio comune di questa nazione e saranno un passo decisivo la sua crescita e il suo sviluppo. Ringrazio tutti voi per quello che fate. Grazie dottoressa Del Balzo. Io lascio adesso la parola per il primo intervento relativo alla presentazione della delibera del 2023 sull'attestazione degli obblighi di trasparenza al dottor Roberto Gabrielli. La dottoressa Amalia Nuvolo non potrà essere presente e quindi sarà il dottor Gabrielli a svolgere l'intervento. Qui lascio la parola, prego. Allora grazie e buongiorno a tutti. Sono un funzionario dell'ufficio di vigilanza anticorruzione e trasparenza e vi spiegherò adesso in questi minuti a disposizione un po' il contenuto della delibera anche per recuperare rispetto a questa platea di nuovi soggetti che si interfacciano con noi e i principali contenuti del testo della delibera. Allora la delibera 203 del 17 maggio 2023 è una delibera che ANAC ogni anno va ad utilizzare proprio per creare un rapporto con quelli che sono i soggetti di controllo interni all'amministrazione per andare a attestare il corretto assolvimento degli obblighi. Allora abbiamo diversi soggetti a seconda della diciamo delle amministrazioni per cui potremmo avere nelle pubbliche amministrazioni in genere abbiamo la figura dell'OIV ma il decreto trasparente si rivolge ad una diciamo a categorie molto eterogenee tra di loro per cui abbiamo pubbliche amministrazioni con OIV abbiamo pubbliche amministrazioni senza OIV abbiamo anche tutto il mondo privato e quindi laddove non c'è OIV quindi è stata prevista quindi questa individuazione di un organismo con funzioni analoghe e nel caso delle scuole questa costituzione è stata prevista quest'anno per legge dalla legge di stabilità 2023 all'articolo 14,4 che ha individuato nel collegio dei revisori delle scuole quindi formato dai due membri uno MIUR e l'altro componente MEF e l'organismo con funzioni di attestazione è una funzione importante di terzietà rispetto al lavoro svolto da un altro soggetto che presiede diciamo all'assolvimento della trasparenza nell'EPA che è il responsabile della trasparenza responsabile della trasparenza che predispone e stabilmente controlla l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione all'interno di un luogo che è la sezione amministrazione trasparente disponibile nei diversi siti delle amministrazioni cerca un po' di recuperare anche altre informazioni e fino ad oggi, negli anni precedenti, nelle scuole, e questa è una grossa novità e non c'era questa funzione di terzietà, non era stata individuata è una funzione di terzietà che non c'era neanche nel settore privato ed ANAC ha richiesto a ciascuno, ciascun ente, amministrazione priva di OIV di andare a ricercare un organismo interno che potesse assolvere a queste funzioni e così anche nelle società private abbiamo che questa funzione è svolta dal collegio dei sindaci dal collegio dei revisori abbiamo altre realtà come gli ordini professionali che non hanno OIV e abbiamo realtà come le università dove abbiamo i nuclei di valutazione le ASL, i nuclei di valutazione, sono tutti soggetti con funzioni analoghe a quelle dell'OIV alle quali è demandata la funzione di attestazione cioè di verifica, di effettuazione di un controllo interno in sede sul, diciamo, sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione e operato dal responsabile della trasparenza con cui l'organismo opera e collabora quindi è un lavoro di collaborazione ma è un lavoro che richiede la terzietà di un soggetto fino ad oggi nelle scuole avevamo assistito anche ad una concentrazione di funzioni pensiamo allo scorso anno quando l'attestazione veniva, diciamo, predisposta dal responsabile della trasparenza delle scuole ora, con questa delibera, diciamo, viene l'ANAC individua obblighi quindi da sottoporre ad attestazione in particolare gli obblighi individuati quindi sono quelli che riguardano alcune sottosezioni, non tutte a rotazione ogni anno ANAC individua alcuni obblighi alcune tipologie, alcune sottosezioni e quest'anno quindi abbiamo le disposizioni generali abbiamo la sottosezione incarichi conferiti o autorizzati nella sottosezione personale abbiamo i bandi di concorso i provvedimenti i bandi di care e contratti i bilanci abbiamo le opere pubbliche poi abbiamo all'interno della sottosezione altri contenuti il registro degli accessi e il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza quindi queste sono le tipologie di obblighi rispetto ai quali è richiesto dalla delibera agli organismi con funzioni di attestazione nel caso delle scuole per disposizione di legge il collegio dei revisori di attestare il corretto assolvimento come? allora, quest'anno cambia la modalità di svolgimento del lavoro di attestazione fino allo scorso anno c'erano delle griglie in modalità Excel come ha anticipato il consigliere del Valso quest'anno si è voluto mettere a disposizione del IOIV una piattaforma per agevolarli nel loro lavoro per semplificare quindi le modalità anche di trasmissione scambio dei flussi tra ANAC e il collegio dei revisori è una piattaforma che consente sostanzialmente di tracciare quindi le verifiche effettuate per accertare l'assolvimento degli obblighi di attribuire una serie di punteggi per ciascuna verifica e di poi andare a documentare le verifiche facendo il download e avendo a disposizione il materiale da dare all'RPCT per la conseguente pubblicazione perché la tracciatura delle verifiche è patrimonio di tutti l'attestazione di assolvimento degli organismi è patrimonio dei cittadini che possono collegarsi al sito e verificare lo stato di assolvimento degli obblighi allora queste modalità verranno poi tecnicamente illustrate successivamente dal dottor Lanza faremo eventualmente anche degli interventi all'interno di quella di quello spazio proprio per recuperare qualche elemento teorico e è importante anche individuare quelle che sono le verifiche sostanzialmente su ciascun obbligo verranno fatte cinque tipologie di verifiche cioè l'avvenuta pubblicazione o meno del dato la diciamo la completezza di contenuto del dato rispetto ai suoi contenuti ma rispetto anche a dei soggetti all'interno tenuti ad assolvere quel dato esempio pensiamo non è capitato in questo caso agli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti ai consulenti in quel caso quindi ci sono una serie di dati che per ciascun consulente affidamento devono essere esposti e questa è la completezza di contenuto la completezza rispetto ai soggetti è la pubblicazione di tutti gli incarichi poi abbiamo delle verifiche intese ad accertare la eh l'aggiornamento del dato e in questo a questo avviso è importante anche rilevare la presenza o meno di una data di aggiornamento nella sottosezione che possa eh restituire al cittadino che è il nostro stakeholder principale l'aggiornamento del dato pubblicato quanto è vecchio ed è eh abbiamo poi una verifica successiva che è quella del l'apertura dei dati quindi non solo del formato e e tutte queste verifiche ci permettono a sistema di andare a valutare lo stato di corretto assolvimento degli obblighi per ogni ognuna di queste verifiche troverete una serie di opzioni in una modalità che viene a voi data attraverso un questionario per cui ci sarà la sottosezione l'obbligo specifico e la domanda una domanda per ciascuna verifica all'interno della domanda avrete la possibilità di di precisare quindi l'opzione fondamentalmente quest'anno abbiamo aggiunto altre due opzioni quindi l'assolvimento pieno cioè il cento per cento dell'assolvimento l'assolvimento parziale per fasce dal novantanove al sessantasei dal sessantasei al trentatré inferiore al trentatré fino ad arrivare al valore zero ma abbiamo anche un altro dato molto importante che permette di tener conto delle peculiarità dell'ente e anche della situazione di ricorrenza del dato al momento della rilevazione e questo è l'opzione NA l'opzione non applicabile quindi la pubblicazione non è applicabile nei casi in cui il dato non ricorre se pensiamo per fare un esempio agli immobili di proprietà il dato non ricorre nella situazione in cui l'ente non dispone di un immobile di proprietà nel caso degli incarichi fatto prima il dato non ricorre quindi non applicabile nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito alcun incarico però ecco è importante in questo anche sottolineare all'amministrazione cioè il dato NA è importante ma far presente all'RT che anche l'informazione negativa è un'informazione e quindi può migliorare la qualità delle informazioni come? Dandone notizia nella sezione amministrazione trasparente corrispondente e così nel caso degli incarichi se nel 2022 o 23 non sono state conferite incariche sarà importante riproporre l'annualità all'interno della quale con una dicitura di testa e manifestare all'esterno per evitare segnalazioni ad ANAC che il dato non c'è perché manca il suo presupposto cioè manca il conferimento del dato l'immobile non è stato indicato perché non c'è un immobile di proprietà e così via in questo è il lavoro e la rilevazione dell'OIV è molto importante l'accuratezza delle verifiche perché è anche un percorso non solo finalizzato alla rilevazione di una mancanza ma anche alla rilevazione di spazi di miglioramento fatte queste verifiche passiamo ai termini allora noi abbiamo sostanzialmente un primo termine che è quello del 30 giugno ed è al 30 giugno vengono fatte le verifiche la piattaforma sarà aperta successivamente a tale a tale termine per cui le verifiche come normale vengono fatte successivamente il termine è un termine di rilevazione di fotografia in cui attraverso le opzioni i revisori l'organismo di attestazione semplicemente fotografa la situazione che trova con le carenze e con le completezze la fotografa la rileva la traccia e la rappresenta all'esterno come? estraendo il documento di verifica il documento di attestazione pubblicando entrambi dove nella sottosezione controlli a rilievi sull'amministrazione all'interno della sottosezione a TOIV in quella situazione abbiamo il termine per la pubblicazione il 31 luglio quindi abbiamo e questo è importante da chiarire abbiamo il mese di luglio per lo svolgimento delle verifiche finalizzato ad arrivare al 31 luglio alla pubblicazione dell'attestazione completa di tracciature la delibera vuole che sia un percorso non solo una fotografia finalizzata a se stessa e alla rilevazione di mancanze ma vuole che sia un percorso di adeguamento laddove sono state riscontrate carenze e questo è il secondo anno in cui ANAC ha previsto quindi anche l'avvio di una collaborazione successiva alla fotografia cioè e infatti prevede un'altra data di rilevazione questa volta al 30 novembre a chi è rivolta e a tutti a tutte quelle situazioni in cui il ponteggio di completezza di contenuto dovesse risultare inferiore a cento tutte quelle situazioni che hanno un punteggio di completezza inferiore a cento hanno situazioni di carenza da superare che siano poche che siano molte e si è data a disposizione un termine che comincia dal primo agosto si conclude al 30 novembre questo è un termine in cui tutto ciò che è stato riscontrato come carente in collaborazione e OIV organismo di attestazione e RT ci si mette insieme per superare le carenze l'OIV al 30 novembre riprenderà in questi casi la propria attestazione il proprio documento di verifiche lo troverà all'interno della piattaforma già caricata dove vedrete i punteggi dati e dovrete attestare in quel caso se l'adeguamento c'è stato e quindi è stato migliorato il punteggio o meno questo anche questo documento dovrà essere poi successivamente pubblicato entro il 10 dicembre il cittadino quindi avrà avrà anche notizia di questo cioè delle rilevazioni iniziali ma anche dello sforzo profuso dall'amministrazione quindi della sua responsabilità nel superare ciò che per varie vicissitudini o motivi non era stato completamente assolto con nuova attestazione al 30 novembre e documento in maniera trasparente pubblicato e rilasciato ai cittadini quindi capite bene come questa funzione come diceva il consigliere del Valso degli organismi di attestazione è fondamentale una funzione strategica di responsabilità e una funzione di propulsione al miglioramento della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni io ecco concluderei per ora l'intervento lasciando quindi lo spazio alle illustrazioni delle modalità tecniche riservandomi anche in relazione alle domande di intervenire per dare degli approfondimenti grazie grazie molto dottor Gabrielli io a questo punto darei la parola per l'intervento successivo che come è stato anticipato riguarda proprio la presentazione dell'applicativo al dottor Riccio e al dottor Lanza vi lascio la parola prego sì grazie buongiorno buongiorno a tutti grazie della partecipazione io sono Rosario Riccio dirigente dell'ufficio di ANNAC che si occupa dei servizi T in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e qui presente anche il mio collaboratore il dottor Giuseppe Lanza che illustrerà successivamente diciamo l'applicazione che è stata realizzata e la modalità di utilizzo si tratta come si è già detto di un'applicazione che consentirà agli OIV e agli organismi di confusione analoghe quindi in questo caso i risori dei conti per le istituzioni scolastiche di compilare la rilevazione in materia di assorbimento di pubblicazione e ottenere come passo finale la dichiarazione di attestazione da pubblicare insieme alla scheda di rilevazione sul sito amministrazione trasparente dell'istituzione scolastica trattandosi di un'applicazione ad accesso riservato prevede ovviamente una fase preliminare di registrazione ai servizi di ANAC e una successiva profilazione in qualità di OIV in altre parole il revisore dovrà registrarsi come avviene con una semplice procedura di registrazione al sito di ANAC e richiedere successivamente il profilo specifico di OIV che dovrà essere validato dall'istituzione scolastica sappiamo che l'evisore dei conti lavora su a più ambiti scolastici presso i quali opera per cui è necessario che acquisisca un profilo da OIV per diciamo per ognuna delle istituzioni scolastiche su cui opera quello che consigliamo è che poiché l'applicazione prevede per ogni amministrazione quindi per ogni istituzione scolastica un unico profilo di OIV attribuibile che i due componenti del collegio paritetico si organizzano concordino tra di loro chi tra i due si registrerà all'applicazione fermo restando che poi le verifiche saranno ovviamente svolte svolte collegialmente quindi nell'ambito del collegio solamente uno dei due componenti può acquisire il profilo di OIV per la specifica scuola se un componente si prende diciamo l'onere di compilare l'applicazione per più di una scuola dovrà avere un profilo specifico per ognuna delle scuole per cui lo fa condivido lo schermo così diciamo cerchiamo di dare visione più operativa della procedura di registrazione e profilazione successivamente dell'applicazione come dicevo prima come diciamo riportato anche nella pagina del sito di ANAC relativo dove è pubblicata la delibera 203 del 2023 il primo passo ad effettuarsi è quello di registrarsi sui sistemi sui sistemi dell'autorità e quindi qui troverete il link al servizio di registrazione e profilazione utenti che è un servizio diciamo messo a disposizione dall'autorità raggiungibile comunque anche dal home page dell'autorità cliccando su accedere ai servizi per le amministrazioni pubbliche scorrendo tra i vari servizi a disposizione si arriverà al servizio di registrazione e profilazione utente qui come amministrazione diciamo c'è una descrizione di quello che sono le finalità del servizio a chi è dedicato manual utente tutto quello che serve diciamo per procedere alla registrazione e profilazione che ora vedremo nel dettaglio operiamo su un ambiente di test quindi inserirò dei dati fictizi supponiamo di essere un utente al momento non provvisto di credenziare per l'accesso al servizio cliccando su registrati si avvia la procedura di registrazione quello che viene richiesto sono pochi dati codice fiscale nominativo e di mail inserendo dei dati fictizi un codice di sicurezza la classica accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali clic su invia la PEC non è un campo obbligatorio se il revisore è dotato di PEC può inserirla se non se non ce l'ha non è un campo obbligatorio quindi la procedura prosegue normalmente la registrazione effettuata con successo cosa vuol dire che il nome utente coincide col codice fiscale all'indirizzo di posta che è stato inserito il sistema invia una mail contenente all'interno un link su cui cliccare parliamo qui della mail un email un indirizzo di mail l'ordinario del revisore riceverà quindi un link su cui cliccare che lo rimanderà sul sito dell'autorità in cui dovrà inserire una serie di dati anagrafici dopodiché potrà scegliere impostare la password per l'accesso ai sistemi a quel punto avremo completato la procedura di registrazione quindi il revisore avrà a disposizione le credenziali codice fiscale password scelta per accedere a qualsiasi servizio dell'autorità la fase successiva che è fondamentale per utilizzare l'applicazione è quella di profilazione ossia il revisore dovrà entrare nella sua area riservata e richiedere il profilo da OIV apprezziamoci a fare anche questo quindi entriamo a questo punto con le credenziali che ci sono state assegnate con il codice fiscale e con la password che abbiamo scelto entreremo nell'area riservata diciamo della home page con i dati personali dell'utente qui compariranno i profili per il quale l'utente avrà chiesto e ottenuto l'abilitazione ora vedete già un profilo attivo di OIV di ANAC supponiamo che sia necessario appunto richiedere un profilo per una certa istituzione un profilo di OIV per una certa istituzione scolastica si va su crea nuovo profilo viene chiesto la tipologia del soggetto rappresentato questa è la procedura per la profilazione per gli N servizi che espone ANAC a beneficio di cittadini imprese pubbliche amministrazioni quindi all'interno di questa procedura che è unica troverete delle diciamo delle voci che sicuramente non si appliceranno a caso di specie quindi chiaramente tutti i passaggi sono definiti all'interno del manuale dell'applicazione per cui oltre al manuale avete poi a disposizione comunque i contatti del contact center sul footer sulla parte bassa di ogni pagina del sito dell'autorità tipologia del soggetto rappresentato nel caso degli OIV va selezionata l'ultima voce amministrazione soggetto al giudicatore a quel punto ci verrà prospettato l'elenco dei ruoli dei profili che è possibile richiedere per la duologia del soggetto nel nostro caso quello che ci interessa è il profilo di OIV quindi l'ultimo dopodichè ci viene chiesto qual è il codice fiscale dell'istituzione scolastica per la quale stiamo chiedendo di essere profilati come OIV nel caso in cui inseriamo il codice fiscale e clicchiamo sul cerca nel caso in cui l'istituzione scolastica per qualsiasi motivo non fosse censita all'interno dei sistemi di ANAC c'è la possibilità di inserire le informazioni fondamentali quindi la ragione sociale la natura giuridica e soprattutto la PEC dell'istituzione scolastica quindi nel caso in cui a quel codice fiscale non corrispondesse alcuna alcun enta all'interno dell'analisi di ANAC c'è la possibilità per il revisore di inserire i dati fondamentali per semplicità facciamo il caso invece di un'istituzione scolastica già censita quindi in questo caso un istituzione comprensivo di Roma ci vengono ricapitolati i dati che sono in possesso di ANAC in merito a quell'istituzione scolastica considerate che questo è un ambiente di test per cui i dati presenti sono dati non completi o comunque nella maggior parte dei casi utilizzati e modificati a scopo di test per cui in questo caso ad esempio troverete che la PEC non è esistente in ogni caso cliccando su avanti la procedura continua viene richiesto la data di nomina nell'incarico di di revisore e il link all'atto di nomina quindi il link al diciamo al sito dove è pubblicato l'atto di nomina del del revisore inserite queste informazioni si procede c'è una maschera che riepiloga i dati inseriti si clicca su avanti e avviene il salvataggio delle informazioni a questo punto il profilo è stato richiesto quindi la procedura è richiesta del nuovo profilo completata con successo cosa succede a questo punto e viene spiegato qui è necessario effettuare una richiesta di validazione ossia il profilo è necessario richiedere all'amministrazione scolastica di cui sono stati inseriti i dati la conferma che io effettivamente svolgo funzioni di revisore dei conti e quindi di oiv per quella istituzione scolastica quindi si torna alla home e si quindi alla home dove c'è un prospetto di riprenditivo dei profili attivi e dei profili non ancora attivi e osserviamo che il profilo appena richiesto risulta in stato in attivazione per cui l'operazione successiva da fare è richiedere la validazione la richiesta della validazione in cosa consiste consiste nell'invio di una PEC all'istituzione scolastica laddove la PEC sia presente o non presente viene comunque proposta ed esposta al revisore affinché la possa confermare o eventualmente modificare in questo caso la PEC non era presente per cui il revisore può inserirla scrivo diciamo delle informazioni fictizie e dopo di che a clic su invia parte una PEC all'istituzione scolastica in questo caso vedete che c'è un problema perché siamo appunto in un ambiente di test quindi non c'è l'interazione con tutti i vari sistemi parte questo messaggio di PEC all'istituzione scolastica in cui sostanzialmente è presente un messaggio del tipo il revisore Tizio e Caio ha richiesto l'attivazione del profilo per la vostra istituzione scolastica c'è un link e un PIN c'è un link da cliccare o un PIN dispositivo chiamato così quindi simile a quello delle banche con il quale l'amministrazione scolastica l'istituzione scolastica può confermare quindi validare la richiesta di profilo a validazione effettuata il profilo risulta attivo l'attivazione del profilo viene notificata chiaramente al revisore dei conti che ha avviato la procedura per cui da quel momento in poi il revisore è in possesso del profilo OIV per quella specifica istituzione scolastica come dicevo per ogni istituzione scolastica in generale per ogni amministrazione può essere abilitato un unico utente con il profilo di OIV una successiva un successivo tentativo di richiesta di profilo OIV va a sovrescrivere il precedente per cui l'ultimo in ordine di tempo è quello che poi effettivamente può operare ecco perché nell'ambito del collegio è importante concordare tra i due revisori chi dedua appunto si fa carico di questa procedura fermo fermo restando come dicevo prima che tutte le attività di verifica vanno svuotte collegialmente nel caso in cui un revisore si prenda quest'onere per più di un'istituzione scolastica dovrà richiedere un profilo specifico per ogni istituzione scolastica quindi dovrà ripetere la procedura non chiaramente di registrazione ma quella di richiesta profilo e validazione profilo per ognuna delle istituzioni scolastiche per la quale si è deciso che sia lui a compilare poi la rilevazione e utilizzare l'applicazione quindi completata la fase di registrazione e profilazione il revisore dovrà utilizzare l'applicazione che anche essa troverete all'interno di accedere ai servizi per le amministrazioni pubbliche tra i servizi per le amministrazioni pubbliche troverete l'applicazione che si chiama attestazione in materia di assolvimento agli obbligi di pubblicazione in questa pagina troverete una descrizione diciamo dell'applicazione a chi è dedicata i passi diciamo a chi è riservato l'accesso le istituzioni per accedere quindi sostanzialmente un riferimento alla procedura di registrazione e profilazione propedefica indispensabile per poter utilizzare l'applicazione una serie di documentazione tra cui anche le schede che poi vedremo sull'applicazione in formato Excel al solo scopo di supportare l'attività di verifica congiunta tra revisore ed rpct ma ripetiamo che queste schede Excel non sono diciamo lo strumento per adempiere alla delibera quindi non diciamo l'unica modalità per l'attestazione degli obblighi è l'indirizzo dell'applicazione quindi eventuali schede Excel inviate via post elettronica o via PEC all'indirizzo di ANAC o a qualsiasi altro indirizzo di ANAC verranno ignorate perché l'unico strumento per compilare la rilevazione di ottenere l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi e l'utilizzo dell'applicazione a cui si accede cliccando sul tasto accede al servizio qui pubblicheremo anche come detto il manuale utente dell'applicazione le FAQ che abbiamo già iniziato a redigere e che continueremo ad integrare sulla base delle domande e dei quesiti che stanno arrivando sulla sezione domande e risposte e che vi invito diciamo ad inserire e a continuare ad inserire per l'illustrazione del ribadisco la tempistica l'applicazione sarà disponibile a partire dal 3 luglio fino al 31 luglio detto questo lascio la parola al mio collaboratore Giuseppe Lanza che illustrerà più nel dettaglio il funzionamento e l'utilizzo dell'applicazione grazie a tutti buongiorno a tutti allora andiamo e vediamo l'applicazione e il funzionamento dell'applicazione quindi come già detto dalla pagina dell'attestazione V del servizio utilizzeremo l'accesso al servizio ed inseriremo nome utente e password che abbiamo che con cui ci siamo registrati quindi il nome utente in questo caso il codice fiscale dell'utente fittizio e la password inserita in fase di registrazione ci troveremo quindi subito al primo accesso l'elenco delle amministrazioni quindi ci troviamo l'elenco delle amministrazioni per cui è stato attivato richiesto ed è attivato un profilo da OIV in questo caso chiaramente un profilo da organismo con funzioni da OIV per quanto riguarda gli istituti scolastici noi andremo a selezionare l'istituto su per cui vogliamo andare a inserire le informazioni e sul tasto ok ci verrà richiesto la tipologia di amministrazione quindi al primo accesso dobbiamo dichiarare qual è il tipo di amministrazione per cui svolgiamo l'attività nel nostro caso andremo a inserire istituto scolastico e confermiamo a questo punto troviamo le due schede la scheda di rilevazione e la scheda di monitoraggio chiaramente in fase di rilevazione quindi a partire dal 3 luglio sarà attiva soltanto la possibilità di inserimento per quanto riguarda le informazioni sulla rilevazione a rilevazione avvenute a partire dal primo dicembre sarà possibile anche inserire le informazioni sul monitoraggio quindi in a questo punto possiamo andare a inserire le informazioni la scheda sarà suddivisa in sezioni ogni sezione è definita e individuata nella delibera 203 del 2023 per ognuna di queste sezioni avremo l'elenco degli obblighi per cui dobbiamo inserire l'informazione che è stata rilevata l'informazione come già anticipato dal dottor Gabrielli sono quelle relative alla pubblicazione quindi andare ad indicare se l'informazione è stata non pubblicata se è stata pubblicata sul sito ma non nella sezione opportuna cioè la sezione amministrazione trasparente oppure se è stata pubblicata correttamente nella sezione amministrazione trasparente c'è poi un valore che è il non applicabile e si usa nel caso in cui la fattispecie di obbligo non è sottoposta a rilevazione per l'amministrazione per cui si sta eseguendo la rilevazione altra informazione altra informazione è quella relativa alla completezza del contenuto completezza del contenuto completezza del contenuto rispetto agli uffici così come aggiornamento e apertura formato prevedono i seguenti valori cioè la 0% che indica che l'informazione non è stata proprio pubblicata oppure il 100% quando tutte le informazioni relative all'obbligo sono state correttamente pubblicate e poi ci sono le tre fasce che è l'uno 33% il 34% il 36% il 67% e il 99% quindi in funzione della rilevazione dei dati rilevati bisogna inserire l'opportuno valore e questo vale sia per quanto riguarda la completezza del contenuto che per quanto riguarda le altre informazioni completezza del contenuto rispetto agli uffici completezza del contenuto relativamente scusate l'aggiornamento del contenuto quindi se il contenuto effettivamente viene mantenuto o aggiornato oppure no è l'utilizzo di un formato aperto nella pubblicazione delle informazioni e quindi anche qua se è stato assolto il 100% vuol dire che tutti i dati sono stati inseriti nella propria interezza in un formato aperto scusate a questo punto possiamo andare a vedere delle funzionalità particolari che sono quelle relative alla sezione dati generali in cui verrà richiesto il link della sezione amministrazione trasparente su cui sono contenute le informazioni sono pubblicate le informazioni relative agli obblighi soggetto ad obbligo e poi il soggetto compilatore nel caso quindi dei revisori bisogna andare a inserire organismo con funzioni analoghe inoltre è possibile inserire gli ulteriori componenti nel caso in cui si ha un componente collegiale chiaramente nel caso dei revisori dei conti si hanno due componenti e quindi il compilatore sarà il primo componente mentre il secondo compilatore eventualmente verrà inserito sul sul campo opportuno sul primo campo sul primo non evitivo in questo caso quindi quando andrà ad essere compilata l'attestazione avremo inserito quindi i due componenti dell'organo di revisione possiamo andare quindi a vedere le altre funzionalità scusami scusami Giuseppe posso intervenire allora sto leggendo un po' di domande quindi a chiarimento dell'inserimento del nome all'interno della sottosezione anche degli altri revisori allora alcuni chiedono se un unico revisore possa ad esempio essere l'unico che si registra e non altro o in relazione al numero delle scuole che il collegio ha dividersi praticamente la registrazione in un numero equo allora noi su questo non abbiamo dato diciamo un criterio nel senso che è rimessa poi alla alla decisione del collegio decidere l'iscrizione se debba essere fatta da uno o piuttosto se i due si debbano diciamo dividere l'iscrizione perché perché è una riguarda una modalità organizzativa che sceglie il collegio dei revisori e sui quali non interveniamo quello che si voleva dire che a prescindere poi da chi è registrato e si ha comunque la possibilità di inserire anche il nome del dell'altro perché perché una verifica congiunta e l'attestazione uscirà a firma congiunta volevo solo fare questa precisazione grazie ok quindi noi andremo ad lavorare su un questionario già in parte compilato per vedere le varie funzionalità possiamo andare come detto alla compilazione possiamo azzerare tutte le informazioni fin qui inserite quindi utilizzando la funzionalità pulisci i campi in questo caso ci viene chiesto di confermare l'operazione in quanto tutte le informazioni inserite sul questionario verranno cancellate chiaramente questa funzionalità sarà possibile soltanto fin quando la rilevazione non è stata chiusa alla chiusura della rilevazione non sarà più possibile modificare alcuna informazione inoltre possiamo andare a vedere un riepilogo una bozza della scheda di riepilogo della rilevazione effettuata quindi utilizzando l'apposito pulsante l'ultimo pulsante dell'elenco dei comandi possiamo andare a vedere la bozza un riepilogativo della scheda che è stata delle informazioni rilevate con tutte le varie percentuali e possiamo vedere anche la bozza della dichiarazione di attestazione andiamo a completare le informazioni quindi andando a modificare la scheda di rilevazione utilizzando gli appositi tasti in basso alla scheda possiamo andare a cercare e vedere se tutte le informazioni sono correttamente inserite ci viene visualizzato quindi ed è evidenziato l'informazione obbligatoria e per l'informazione obbligatoria vogliamo dire quell'informazione che è necessaria inserire che è evidenziata col segno dell'asterisco in questo caso noi andremo a considerare l'organismo con funzioni analoghe andando a indicare oltre quindi ripetiamo al nome del compilatore anche il nominativo dell'arto componente dell'organo di revisione e inseriamo il nominativo e effettuiamo la convalida in questo modo tutte le informazioni necessarie sono state inserite e possiamo passare all'acquisizione dell'attestazione quindi con questa funzionalità il revisore l'organo di revisione attesta che le informazioni inserite sono quelle effettivamente rilevate andremo a selezionare quindi le affermazioni relativamente all'acquisizione ed andremo ad attestare la scheda in questo caso anche in questo caso quando andremo a fare l'attestazione vedremo come la scheda verrà chiusa e non sarà più possibile effettuare delle informazioni quindi confermiamo l'attestazione e abbiamo la possibilità quindi con scheda chiusa di andare a stampare la ricevuta e quindi abbiamo un numero di registrazione interno che ci confermerà che le schede di verifica è stata acquisita correttamente e registrata al sistema così come possiamo andare a vedere alla fine scaricare il pdf della scheda di rilevazione che possiamo filmare sia digitalmente che in modo classico che è poi da andare a scaricare e pubblicare nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'amministrazione vedremo come possiamo mettere in evidenza il numero di registro e la data di chiusura dell'attestazione della rilevazione e l'attestazione sulla pagina successiva che conterrà i nominativi del compilatore e del secondo membro dell'organo di revisione queste funzionalità si troveranno sia sulla sia sulla in fase di chiusura della rilevazione sia quando noi andremo a rientrare sul dettaglio dell'amministrazione della scheda per l'amministrazione quindi avremo la possibilità di andare a stampare sia la ricevuta che andare a scaricare la griglia pdf quindi in questo caso stampiamo la ricevuta sempre la stessa funzionalità vista prima così come il download della griglia di rilevazione con la relativa attestazione sulla pagina finale nel caso in cui la rilevazione è chiusa possiamo effettuare ripeto sempre a partire dal primo dicembre quindi a partire dal primo dicembre è possibile inserire i dati di monitoraggio quando verranno quando si deve inserire si devono inserire i dati di monitoraggio in tutti quei casi in cui l'informazione è stata rilevata una non completezza dell'informazione pubblicata infatti per quest'anno per il 2023 verrà sottoposto a monitoraggio soltanto il dato relativo alla completezza quindi in questo caso in un caso di test la rilevazione della scheda di monitoraggio sarà aperta quindi noi andremo alla compilazione ed andremo ad aggiornare il dato relativo alla completezza del contenuto in fase di rilevazione è stato inserito il valore 34 e 66% quindi si spera che l'amministrazione si sia adeguata e possiamo quindi inserire il dato relativo al 100% della completezza di pubblicazione rispetto al al primo obbligo la breve descrizione sul procedimento con indicazioni di tutti i riferimenti normativi utili poi relativo fin quando andiamo a compilare tutti gli obblighi tutti il dato sulla completezza del contenuto diciamo che come funzionalità abbiamo visto un po' tutte le funzionalità dell'applicazione che l'applicazione mette a disposizione l'unica rimasta è lo storico quindi possiamo anche andare a vedere le varie le varie operazioni che sono state fatte andare sul dettaglio a vedere il dettaglio dell'informazione inserita in questo caso possiamo soltanto visualizzare chiaramente e non andiamo a modificare nessun dato in quanto ci fa vedere lo storico delle modifiche effettuate sulle schede di rilevazione abbiamo concluso per quanto riguarda la presentazione delle funzionalità quindi Gabriele e Roberto se non c'è altra altra allora sì allora io volevo intervenire cercando allora sto cercando di rispondere a tutte le vostre domande sono molte ma poi analizzeremo e metteremo a disposizione le domande laddove non abbiamo dato risposta allora tra le domande che richiedo che diciamo ricorrono molto spesso ce ne sono diverse che vorrei anche diciamo affrontare con i minuti che abbiamo a disposizione qui allora la prima domanda riguarda l'atto di nomina allora il link all'atto di nomina e molti mi dicono che ricevono l'atto di nomina e però non sanno a quale link debbano fare riferimento allora l'atto di nomina deve essere pubblicato nella sezione amministrazione trasparente delle scuole cioè i cittadini devono avere consapevolezza di chi in quella scuola sta sta svolgendo le funzioni di attestazione è un'informazione quindi sull'organizzazione della scuola dove va l'informazione l'informazione va nella sottosezione personale all'interno della quale ci sarà una sottosezione di secondo livello organismi con funzione di attestazione ed è in quella pagina che diciamo l'atto di nomina ricevuto dal revisore dovrà essere pubblicato quindi l'atto di nomina va è un atto che deve essere diciamo dato alle scuole perché le scuole possano pubblicarlo all'interno della sezione e quindi rendere all'esterno un'informazione importante cioè quella del soggetto che svolge questa funzione all'interno della scuola è un soggetto che è distinto da chi diciamo predispone gli obblighi li inserisce e li monitora ha una funzione di terzietà quindi che deve essere nota il link è quello quindi l'atto va alla scuola la scuola lo pubblica in una sezione restituisce al revisore il link che deve utilizzare per diciamo questa per la registrazione quindi un passaggio diciamo che stimola anche a ulteriore trasparenza perché molto spesso entriamo nelle sezioni e non sappiamo chi svolge la funzione di attestazione in quella scuola è il primo atto importante cioè dare all'esterno il nominativo il collegio la composizione di chi in quella scuola svolge la funzione di attestazione altra domanda che ricorre si è parlato delle percentuali 33 66 come si fa a determinare la percentuale la percentuale è una percentuale di eventuale carenza quindi si andrà a determinare in base all'esito della rilevazione cioè vedendo tutto ciò che è stato pubblicato rispetto a ciò che doveva essere pubblicato questa è la verifica se la parliamo agli incarichi al personale la scuola ha pubblicato due incarichi e ne dalla documentazione in possesso della scuola emerge che gli incarichi sono quattro il rapporto è cinquanta per cento quindi questa è questa è la misura due a quattro e il revisore stimola attraverso la rilevazione il completamento della documentazione e quindi questo è importante molti mi hanno fatto un po' questa domanda chi va a monitoraggio a monitoraggio va a chi ha completato tutte le informazioni quindi nel caso in cui i quattro incarichi sono stati tutti pubblicati non c'è alcuna necessità di andare a monitoraggio nel caso in cui ne siano stati pubblicati tre c'è necessità di andare a monitoraggio perché altrimenti l'azione di rilevazione non avrebbe alcun seguito alcuna utilità mentre noi qui ricerchiamo l'utilità di adeguare di avviare un processo diciamo in qualche modo indotto dalla verifica di adeguamento all'informazione per varie vicissitudine che non stiamo qui diciamo a a discutere è un processo che ha a disposizione alcuni mesi successivi che vanno fino al trenta novembre dove il revisore vedrà effettivamente se il tre su quattro è rimasto tale il tre incarichi su quattro si è passati al quattro su quattro ma lo vedrà non solo il revisore il revisore lo attesterà e lo rappresenterà attraverso la tracciatura di monitoraggio di attestazione in un documento che verrà pubblicato quindi lo renderà manifesto al cittadino renderà manifesto al cittadino che al trenta giugno ce ne erano tre al trenta novembre continuano ad essercene tre la rilevazione fatta all'R all'RT non è stata diciamo eseguita e questo è e queste sono tutta una serie di informazioni per cui l'OIV ha fatto il suo dovere nel senso che ha attestato l'organismo attestazione ha fotografato la situazione iniziale ha fotografato la situazione successiva che può essere può evidenziare un percorso di adeguamento o meno ma è un'informazione che è resa ad ANAC ma che è resa anche a tutti i cittadini con la pubblicazione e questo spero di aver diciamo in qualche modo risposto a questa domanda e possiamo non so scorrere le domande altre domande mi rivolgo a sì Rosario ma io stavo anch'io stavo rispondendo ad altre domande le principali riguardano l'eventualità in cui un secondo revisore un secondo sì un secondo revisore richiede un profilo per una scuola per la quale esiste già un profilo d'AVV la seconda registrazione sovrascrive la prima quindi questo è il meccanismo che diciamo serve anche a gestire le sostituzioni quindi il nuovo revisore appena nominato oppure se c'è l'esigenza di sostituire il revisore che compila l'attestazione è sufficiente che quest'ultimo si registri la sua registrazione sovrascrive la sua profilazione scusatevi il suo profilo sovrascrive il precedente profilo di OIV per quella specifica scuola altre domande riguardano il fatto che appunto i revisori hanno più ambiti ogni ambito è costituito da più scuole quindi diciamo c'è preoccupazione per l'onere per sapere quanti profili acquisire come dicevamo prima è lasciata la discrezionalità del collegio dei collegi concordare un modus operanti per evitare che l'attività diciamo gravi tutta su un solo revisore quindi la cosa importante è che come dicevo prima per ogni scuola ci sia un solo revisore che abbia il profilo di OIV le verifiche vanno fatte collegialmente però poi chi materialmente dovrà accedere al sistema e inserire le informazioni sarà solamente uno quindi sarebbe buona prassi che i due revisori concordino diciamo in maniera equa come suddividersi il carico c'era un'altra domanda che riguardava cosa succede se la scuola non conferma la validazione non valida il profilo quindi non non accetta la richiesta di proprietazione che fa il revisore e sicuramente non vedo motivi per cui la scuola l'unico motivo che viene in mente è che la scuola magari non ha contezza della PEC che è arrivata o diciamo non 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 si appunto non non si rende conto di questa operazione che va effettuata quindi in quel caso dovrebbe essere l'evisore comunque a farsi parte attiva nei confronti delle scuole ma so per certo che anche il Ministero dell'Istituzione del Merito e il MEF hanno inviato manderanno delle comunicazioni specifiche alle scuole per sollecitare anche loro su l'importanza e l'opportunità di dar seguito a questa a questa attività e l'attività prevista dalla Delibera trecentotré altri quesiti di tipo te sì nel frattempo io stavo vedendo un quesito tematico non so se allora stavo vedendo che si chiede che cosa si intende per completezza rispetto agli uffici allora facciamo un esempio più pratico e stiamo attestando gli incarichi conferiti ai dipendenti che è uno degli obblighi che è stato scelto rispetto al a ciascun incarico c'è una completezza di contenuto che riguarda tutti i dati che devono essere forniti dell'incarico il soggetto l'oggetto il compenso e questa è la completezza rispetto al contenuto rispetto invece agli uffici in realtà è rispetto ed è intendersi come rispetto ai soggetti tenuti all'assolvimento in questo caso i soggetti tenuti all'assolvimento sono tutti coloro che hanno ricevuto l'incarico questa era la la precisazione che mi sentivo di fare possiamo scorrere ancora se ci sono altre domande allora sì molti lamentano sempre il discorso dell'attivazione del del link la necessità di avere un link laddove l'atto non è stato praticamente pubblicato perché c'è al momento e questo lo riscontriamo la la mancanza di pubblicazione dell'atto all'interno della sezione l'atto ricevuto va trasmesso alla scuola per la sua pubblicazione nella sezione personale sotto sezione organismo di attestazione la quale deve rilasciare all'organismo per la sua registrazione la sua profilazione il diciamo il link di pubblicazione un po' quello che accade anche per la convalida cioè il questo momento è un momento di condivisione tra chi ha ricevuto l'incarico e il soggetto presso il quale l'incarico va svolto il soggetto che riceve quindi l'OIV per metterlo nelle condizioni di svolgere l'incarico deve assolvere ad una serie di adempimenti quali appunto la convalida dell'incarico ma anche quale la pubblicazione del suo incarico nella sezione per rendere l'OIV nelle condizioni dell'espletamento dell'incarico allora mi rivolgo in questo invece a amministrazioni diverse dalle scuole perché in questa in questa diciamo sessione anche se prevalentemente rivolto alle scuole ci sono anche scritti di altro genere allora alcuni mi chiedono chiedono qui attraverso le domande la informazione riguardo alla scheda sulla diciamo sugli uffici periferici allora in questo caso è stata sistematizzata la quella scheda che c'era l'anno scorso per cui nel momento in cui verrà aperto un profilo rivolto ai ministeri e agli enti pubblici a rilevanza nazionale verrà richiesto attraverso il questionario se questa realtà ha uffici periferici o meno nel caso in cui ha uffici periferici il questionario verrà allungato delle informazioni che prima erano contenute nella griglia 2 1 B e cioè quella che permette di tracciare le informazioni sugli uffici periferici ma non solo si avrà poi la possibilità anche di precisare quello che veniva indicato nella precedente scheda di diciamo di verifica ossia di indicare i criteri di campionamento utilizzati nel caso degli uffici periferici questo quindi è un'informazione che sto dando esclusivamente ai ministeri e agli enti pubblici a rilevanza nazionale che hanno questa ricorrenza questa fattispecie che invece non riguarda le scuole Rosario tu hai altre domande alle quali no no invitavo a fare le domande però sulla sezione domande e risposte non sulla chat chiedevano sulla dichiarazione di attestazione la dichiarazione di attestazione viene prodotta una volta che è stata completata la scheda di rilevazione quindi la scheda con le informazioni puntuali con valida effettuata ci sarà la necessità di rispondere a una serie di poche domande fanno parte di una check list che vanno a costituire il documento di attestazione il quale insieme alla scheda di rilevazione puntuale va pubblicato anch'esso su amministrazione trasparente dell'istituzione scolastica si si chiede se ci si può avvalere della collaborazione dell'RT sì questo è un lavoro che diciamo prevede uno scambio tra i soggetti quindi sicuramente sì il termine del 30 giugno è tassativo e il termine successivamente al quale quindi si fanno le verifiche altra situazione sto leggendo brevemente un po' le domande vediamo a chi provvede alla pubblicazione dell'attestazione allora la piattaforma è ad uso dell'OIV è ad uso dell'organismo di attestazione che ha il mezzo per tracciare le verifiche e per estrarre dalla piattaforma il documento di attestazione di verifiche questi documenti estratti e firmati vanno trasmessi all'RT è l'RT che provvede alla sua pubblicazione come è stato anche indicato nella delibera 203 quindi non provvede l'OIV non è l'OIV o l'organismo di attestazione che alimenta la sezione ma è l'RT stessa cosa vale anche per l'atto di nomina sarà cura del diciamo del revisore e trasmettere l'atto di nomina per la sua pubblicazione a cura dell'RT chiedo alla dottoressa Manconi se abbiamo altri minuti o siamo come stiamo coi denti stiamo mancano veramente due minuti prima dell'intervento conclusivo del segretario generale quindi non so se volete rispondere sempre sull'attestazione perché nell'attestazione si dà evidenza del fatto se esistono meno filtri su amministrazione rasparente che impediscano la ricerca all'interno delle sottosezioni di amministrazione rasparente giustamente qualcuno chiede io non avendo competenze informatiche come facciamo noi a rispondere a questa domanda in questo caso chiaramente questa è una dichiarazione che dovrà fare la scuola che dovrà diciamo prendere contatti col proprio fornitore di servizi che se ne ha uno o se fa diciamo se opera con risorse interne e in quel caso l'edivisore dovrà farsi in qualche modo certificare dalla scuola che le soluzioni tecniche adottate per la gestione di amministrazione rasparente non prevedono filtri di alcun tipo allora grazie grazie al dottor Riccio al dottor Gabrielli per aver risposto in così poco tempo a così tante domande ce ne sono ancora tantissime qui si risponderà successivamente io a questo punto lascio la parola per le conclusioni al dottor Romano segretario generale di ANAC che vedo in video prego grazie buongiorno a tutti ringrazio tutti i partecipanti al webinar odierno di particolare importanza per l'ANAC in relazione all'attività di vigilanza che l'ANAC stessa effettua sul decreto legislativo 33 del 2013 in relazione appunto agli obblighi direi ai doveri di trasparenza che tutte le amministrazioni pubbliche e non solo hanno nei riguardi diciamo dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla lotta alla corruzione quindi attraverso la trasparenza delle attività amministrative ringrazio il Formez perché ci ha consentito con la sua piattaforma di effettuare questo webinar odierno nell'ambito dell'attività comune che ANAC e Formez svolgono nell'open government e ringrazio in particolare anche la dottoressa Manconi per l'attività di moderazione di questo webinar tenuto questa mattinata e mi ricollego a quello che ha detto il consigliere del balzo all'inizio dell'apertura di questo webinar cioè dell'importanza dell'attestazione dell'OIV cioè degli organismi indipendenti di valutazione e organismi analoghi per diciamo l'attività di per diciamo per la trasparenza del settore quindi non è una forma è una forma di collaborazione che c'è tra ANAC e gli organismi indipendenti di valutazione e organismi analoghi è una forma di collaborazione in cui l'autorità mette a disposizione gli strumenti per poter effettuare questo obbligo normativo quindi l'attestazione dell'avvenuta diciamo dell'attività di trasparenza da parte del responsabile per la trasparenza di ciascuna di ciascuna amministrazione e quindi mettere a disposizione gli strumenti e di poter appunto usufruire di questa attività del degli organismi indipendenti di valutazione e organismi analoghi per le finalità di vigilanza propria dell'ANAC quindi l'altro giorno il presidente ha aperto la prima sessione e ha precisato che non è solo un adempimento ma è uno strumento che crea valore cioè questo strumento delle attestazioni e migliora l'organizzazione degli enti finalizzato al perseguimento delle proprie prerogative istituzionali quindi lo ha precisato il presidente lo ha fatto presente oggi il consigliere del balzo è uno strumento di collaborazione che l'autorità mette a disposizione degli organismi organismi indipendenti di valutazione e organismi analoghi oggi abbiamo parlato i colleghi hanno parlato in particolare degli organismi analoghi in relazione agli istituti scolastici e analoghi e hanno chiarito bene la portata e le attività in capo a questi organismi analoghi il punto di partenza di tutto è stata la delibera come ogni anno una delibera riguardo la 203 del 2023 questa delibera che hanno ampiamente illustrato i colleghi che ringrazio ringrazio il dottor Riccio il dottor Gabriele e il dottor Lanza per la presentazione effettuate in particolare per quanto riguarda la delibera per quanto riguarda l'infrastruttura informatica messa a disposizione che rispetto agli anni scorsi è un passo in avanti un miglioramento complessivo del sistema che penso possa essere apprezzato dagli organismi indipendenti di valutazione e organismi analoghi perché consentono loro non solo di di aspettare l'attività posta in capo a loro ma anche di guidarle nella gestione di questo adempimento che viene richiesto dal decreto legislativo 33 del 2013 con riferimento in particolare alla struttura informatica messa in piedi volevo precisare che questo è un primo passo per la realizzazione della piattaforma unica della trasparenza che sarà strumento di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e le autorità la piattaforma unica della trasparenza è prevista espressamente dalla normativa sugli apparti pubblici in particolare la normativa sugli apparti pubblici prevede che la piattaforma della trasparenza si integrerà interagirà con la Banca Dati Nazionale dei Contatti Pubblici e si alimenterà delle informazioni relative alla BDNCP Banca Dati Nazionale dei Contatti Pubblici per il settore che riguarda i contratti pubblici questa piattaforma è stata per quanto riguarda alcune attività particolari previsti da altre disposizioni normativi come i servizi pubblici locali è stata già implementata ai primi di quest'anno per consentire all'amministrazione pubblica di poter effettuare la pubblicazione di questi servizi pubblici locali previsti dalla normativa se non ricordo male la 201 del 2022 31 dicembre se non ricordo male e questa parte della piattaforma è in continua evoluzione ci sono state due successive implementazioni una nel mese di maggio e una adesso prossimamente nei prossimi giorni e che appunto come dicevo prima sarà il punto di partenza per lo sviluppo complessivo della piattaforma unica della trasparenza in un contesto molto più ampio di tutte le attività in capo all'autorità nazionale anticorruzione quindi ringrazio in particolare il dottor Riccio per la presentazione il dottor Lanza per la presentazione della di questa piattaforma finalizzata alle attestazioni ai WU e per la sovistività della presentazione delle peculiarità di questo strumento che è stato messo a disposizione per questa attestazione poi ringrazio anche il dottor Gabriele soprattutto per quando riguarda l'illustrazione della delibera 203 del 2023 appunto che riguarda le modalità di di attestazione prevista quest'anno in particolare con riferimento ha spiegato la campionatura degli obblighi o dei doveri come li vogliamo chiamare che sono diciamo la diciamo le le attività oppure quantomeno gli obblighi di pubblicità che l'autorità vuole verificare attraverso questa attestazione quindi hanno è stato illustrato appunto le percentuali di adempimento rispetto all'anno scorso che non c'erano le le novità rispetto all'anno precedente e le modalità con le quali diciamo queste attestazioni andranno fatte e voglio richiamare quindi l'ha fatto il leggemente del dottor Gabrielli voglio richiamare i contenuti in maniera molto sintetica i contenuti di questa delibera 203 del 2023 cioè del mese di aprile 2023 cioè in particolare quale sono che cosa individua questa delibera del 2023 cioè individua in particolare le categorie gli enti obbligi che sono diciamo soggetti alla pubblicazione che sono oggetto ovviamente di attestazione le modalità di svolgimento delle verifiche l'attività di controllo interno termini di rilevazione e monitoraggio termini di pubblicazione delle verifiche e modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza dell'autorità per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'autorità ovviamente si fa riferimento ai regolamenti di vigilanza che sono diciamo regolamenti che vengono utilizzati in generale per la vigilanza su tutta l'attività anticorruzione svolta da parte dell'ANAC in particolare attenzione è stata posta alle modalità di svolgimento delle verifiche cioè che l'assolvimento sarà disponibile a partire il primo luglio e dovrà concludersi entro il il 31 luglio 2023 e poi ci sarà una fase di monitoraggio che verrà effettuata a partire dal 39 novembre 2023 e dovrà concludersi entro il 10 dicembre 2023 sono elementi significativi poi non mi soffermo su altre fattispecie ma queste sono le date fondamentali su cui bisogna che necessariamente occorre rispettare per consentire poi all'autorità di effettuare le proprie attività di vigilanza in materia io non ho null'altro da aggiungere dico soltanto che i colleghi hanno già risposto a numerose domande e quesiti che sono pervenute via con questo webinar ma che in generale eventuali quesiti diciamo che non sono state oggetto di risposta odierna saranno sicuramente tenute in considerazione da parte dell'ANAC che come vi ricordo l'ANAC pubblica delle fax sul proprio sito quindi se queste domande sono frequente e se l'autorità ritiene che necessitano di una risposta verranno diciamo pubblicate delle fax sul sito dell'ANAC io ancora ringrazio tutti quanti ringrazio i colleghi la dottoressa Manconi e tutti i partecipanti al webinar e vi auguro buon lavoro nelle attività di attestazione grazie ancora grazie a lei dottor Romano anche per queste conclusioni che ci ricostruiscono il quadro di contesto di questa attività e in generale richiamano gli elementi chiave degli obblighi legati all'attestazione la ringrazio anche per aver ricordato che ANAC è uno degli attori istituzionali che collaborano col Dipartimento Funzioni Pubblica per l'attuazione del Piano d'Azione Nazionale del Governo Aperto che ha al proprio interno un'azione dedicata proprio al tema della cultura dell'integrità e della prevenzione della corruzione quindi è nell'ambito di questa collaborazione che abbiamo potuto realizzare questi due webinar ringrazio tutti i relatori tutti i partecipanti che sono stati così numerosi anche così attivi nel porre domande ricordo che pubblicheremo a breve nel corso del pomeriggio la registrazione quindi sarà possibile riascoltare tutti gli interventi mentre per quanto riguarda le risposte e quesiti come ha già fatto sia il dottor Romano sia i colleghi che l'hanno preceduto verranno poi rese diciamo verrà data evidenza sul sito di Anac attraverso delle fac dei quesiti più ricorrenti ringrazio quindi ancora a tutti vi auguro buona giornata e a presto arrivederci arrivederci